Da Belpasso, nel Catanese, dove viveva con sua madre, ha preso l'auto e scappato a Messina, da qui un treno lo ha condotto a Milano. Luca Priolo voleva fuggire in Svizzera, nascondersi a Lugano dopo aver ucciso Giordana Di Stefano, la mamma di sua figlia di 4 anni. I carabinieri che giravano con la sua foto in mano lo hanno riconosciuto e fermato in stazione centrale. Luca ha confessato, sì sono io, ha detto, a Nicolosi, ha accoltellato Giordana, poi si è liberato dei vestiti insanguinati in una campagna vicino al centro commerciale. Gli indumenti sono stati recuperati dai militari, l'arma del delitto ancora no. Adesso Luca Priolo è accusato di omicidio volontario premeditato, stanno facendo discutere le parole del procuratore di Catania, che ha parlato di un evento imprevedibile perché il rapporto fra i due era migliorato dopo però anni di tormenti, minacce, inseguimenti, appostamenti e incursioni notturne in casa della ragazza che, esasperata nel 2013, si è rivolta alle forze dell'ordine. Priolo voleva diventare guardia giurata, un sogno reso irrealizzabile dalla denuncia per stalking. Per questo, martedì sera, l'uomo ha incontrato Giordana e suo cugino, poi però l'ex coppia è rimasta sola. Una conversazione apparentemente tranquilla in cui Priolo ha consentito l'affidamento esclusivo della bimba alla madre. In cambio, lei ha promesso che il giorno dopo, cioè ieri, quando si sarebbe dovuta svolgere la prima udienza del processo, avrebbe rimesso la denuncia per stalking. L'epilogo è stato diverso.